Ciao a tutti da bestloggywest e da Tarfone Ciao ragazzi E da me Tu vuoi nella merda Anche Tarfone sta registrando Si è partito Sta registrando pure io Muove il culo e facciamo l'invade Ok si sta registrando di bello Oggi siamo una bella partita in 3v3 Sarà un pochino a specolare Abbiamo loggy e ade e loggy ade Esatto Lo so che si sta facendo il blu Andiamo a fare il classico invade Eeeh Una volta nella 3v3 se ci conoscete Vedremo soltanto questo invade Focussiamo loggy Buono Buono Direi proprio di sì ragazzo mio Gioco sì Cos'è non poteva usare la 1 a 1? No secondo me è nabbo Ahahahahah 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 Vabbè ma questo qua non mi piace Questo mercolì si fa le kill Devo farle unikit Basta Ah ma va bene anche così dai Cioè Solo loggy deve fare le kill Io intanto con il vostro permesso Vado a farmi il blu Ah 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 No no rimango a lei Fatto da solo Ah ma si me lo faccio in solo tranquillo Lo so ragazzi che avevo promesso che facevo Un altro champion ma Era partita come Una partita Mmmmm For fun Eeeh Abbiamo visto la composition del team avversario è nostra Abbiamo detto no Questa dobbiamo registrarla Perché sicuramente sarà epica E infatti diciamo non sta deludendo le nostre aspettative Perché cosa sta succedendo? Siamo praticamente Quasi a specchio Freglia quella puttanella Quella cara amica da Sbaglio ha jumpato sotto il culo vostro Ora però tu jumpa sotto il culo E lì non quella cara amica Oh l'ha missatissima la u Occhio che ade jumpa Infatti Mercury è troppo aggressivo Guarda ci muoio male Ci muoio male io Ci muoio male io Ci muoio male io Nooo cazzo dentro l'ulti di ade Nooo porca trota Ok dai Me la sto scampando veramente al pelo E ha missato l'ultima anche quello No io ho usato il build Io ti ricollava Allora che ideo Vediamo dove sta la zoccola La build varia Rispetto ai Dio avversari E le team di solito mi piacciono prendere Sempre prendermi dei beat Che sono Davvero molto importanti sulla visione Io becco Con duemila gold Strong Very good Che è morto Mercury Vabbè dai 2-1 se lo può permettere Non è stridata Cioè non è stridata Però io volevo essere la idea E non hanno i beat Minchia ciao ragazzi Ma Loki dovrebbe spiegare da tutti Per scappare Vamana Vabbè pure lui dovrebbe usare da tutti Poi immagino soltanto Ade Ade Che si tutta una vicenda No lui l'ha già usata prima la ultima No però immagino la scena Cazzo t'è passato davanti No sto prendendo Loki quello prende Si Infatti t'è passato davanti Sì Hanno aggiornato ovviamente le Boys Park di Loki Adesso hanno messo questo Guarda quali altri c'è Occhio che arrivano entrambi Sì Carini tutti quanti Vabbè io vado a fare il mio red E mi son rotto i coglioni Ok 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 Loki lo sappiamo chi è Loki migliore Sono tutti 3 mid? Sì Fate Bumana piglio Sono senza mana eh Sono senza mana eh Sì Va benissimo ragazzi Va benissimo Poi ancora non ho capito il senso Buh Forse pensavano di ingabbiarmi E massacrarmi Cazzo ne so No Magari mi fa le scarpette Mi fa anche il blink Con la Hydra Lamento di E' davvero un buon oggetto Sei l'unico stronzo Che non si è fatto i bits Iiiihihi C'è c'è gli altui C'è la cosa Eh Alla fine Non me ne sono fatti tanto per Aade Più che altro io mi faccio i bits E Danno a livello 3 E' davvero una cosa molto forte Quello che permettono poi Di usare di sfruttare due volte la La 3 E' giocato l'ho Andiamo a farcelo Guarda che è sul rosso nostro Guarda che è sul rosso nostro Prendilo da dietro Prendilo da dietro Sta qua Adesso eh Sta qua Ok Sto Sono scappato Abrar Intanto vediamo Figlio POPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPY sono state passate se che stiamo recando vi saluto a basso ragazzo del tubo non sono mai stato qui allora si sono però fatte il blu si sono però fatte il blu si avete già iniziato adesso non sono giocato ma te l'ha detto nessuno che sei in una stanza pubblica cazzo stavo per champare sotto torre ok che voce da culo che c'è una cosa mercuri ma mercuri è culo mi vede da lontano un po' come il tetto ahah vabbè vabbè No Cosa sto Mercury Minchia ha blingato via Proprio E' una buona attiva ma Stia andando Molto di più Mi sono tutti e due C'è solo Ade In mid Mi sti mettendo a comprare le word Aha Stia andando tank vero? Si Si sta andando tank Un po' che un giottino Aha Attenzione Attenzione Ma non è che ci vuole tanto Uccidere un altro log Soltare Tre E' proprio che fatto Dovresti dovuto fare prima la tre Almeno avresti curato qualche po' di vita Eh no Non abbiamo Un cazzo di danno sai Ah che non sono il re del nostro Ok Riturare a base Oh l'ho visto giusto Te l'ho silenziato giusto Ho dei beats troppo cari Se pensavo che scappasse allora ho un po' di beats Va male Sì E' prima Ah però adesso è liberato Cazzo che male fa a sto stronzo! Oh qui ti stanno venendo a prendere! Eh! Mi stico al vigno! Ma... L'obbligo di mano! Mi stico al vigno! Sì! Sì! Non manca! E guarda! vado a farmere il blu va se c'è ancora sono qua eh l'ho che sta avendo da te oh l'ho cazzo o che a sinistra è lì oppure occhio dietro eh ho capito ma eh beh anche tu cazzo sotto torre sotto torre i cose se no prendevo loghi ma non lo prendevi dai certo che lo prendevo minchia se l'odio quanto diventa grosso come se blocca la registrazione così a caso fatelo 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 l'occhio che ha sparito anche l'occhio eh che cosa è quello che ho detto partalo porca di quella troia ma cazzo si è bulldata quella della riesco a capire perché a me mi si blocca sempre il video bubba user in your channel was kicked from the server ah gank middle lane be careful Buongiorno! Oh, io ho previso, qui stanno passando? è vergognoso cazzo c'è l'occhio di in giro minchia mi ha spawnato proprio dietro ce lo facciamo ade? no ade no non so perchè ora voglio impressionare che sarà una partita lunga grazie grazie a farmi almeno il blu nostro va amida amida ok ok grazie no mi ha spawnato il rifato mi ha spawnato grazie 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 sono sotto di tre livelli porca puttana dai ma che è stata vacca l'occhio è andato a destra e ti aspetto qua se è arto come no e si sono fatti be careful retreat hey over there retreat 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 be careful quello di prima ti aveva chiesto era entrato a fase o era a wash vero di foto ciao Grazie a tutti 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 Un saluto Grazie a tutti